Un appuntamento imperdibile per i futuri sposi e l'Expo dell'amore di Belvedere che torna nella sua seconda edizione. Da questa sera fino al giorno di San Valentino, l'Associazione Risorse Mediterranee che organizza l'evento in collaborazione con l'amministrazione comunale ospiterà ben 47 espositori del settore e che presenteranno prodotti e servizi. Sarà possibile costruire il proprio matrimonio dalla A alla Z, partendo dagli abiti per sposa e sposo, fino ad arrivare agli addobbi floreali, passando per la scelta del fotografo, delle bomboniere degli arredi e addirittura della gastronomia. Lo scopo dell'evento è la valorizzazione degli aspetti turistici, sociali, economici e commerciali del comprensorio che ben si sposa, è proprio il caso di dirlo, con la presenza delle relive di San Valentino, patrono degli innamorati, custodite presso il convento belvederese dei frati Cappuccini. Per le coppie, in procinto di compiere il grande passo, cinque giorni per farsi quantomeno un'idea su tutto ciò che ruota attorno ad una cerimonia nuziale. Già, farsi un'idea, perché si sa, l'indecisione è donna. I futuri sposi che accetteranno di passare qualche ora nell'ovattato mondo del giorno più bello della vita con moglie, suocera e mamma al seguito, avranno bisogno di tanta pazienza, ma niente paura, perché tra l'assaggio di un confetto e un'occhiata a qualche bomboniera ci saranno momenti di spettacolo per rifiatare un po'. Gli organizzatori dunque hanno pensato proprio a tutto e sono pronti ad accogliere i visitatori che già lo scorso anno arrivarono numerosissimi. E se qualcuno lo vede ancora lontano, chissà che questa non sia l'occasione per iniziare a pensare al fatidico giorno del sì. Già, 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 già.